Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo. Se ami ciò che stai facendo, avrai successo. Così diceva il medico tedesco Albert Schweitzer. Il nostro viaggio continua con Claudio Cretaro, Sales Manager della Stiles e Coach Professionista, diplomatosi alla Character nel dicembre del 2019. Buona visione!